Io ho sempre creduto nel principio della sussidiarietà, no. È quello che abbiamo cercato di applicare anche, che cerchiamo di applicare anche a livello europeo quando diciamo non si occupi Bruxelles di quello che può meglio fare Roma e non si occupi Roma da sola di quello che non può fare senza Bruxelles. Vale per il rapporto tra l'Europa e lo Stato nazionale, vale per il rapporto tra lo Stato nazionale e le autonomie locali e cioè deve rispondere il livello che è più prossimo alla vita dei cittadini per dare risposte che siano concentrate anche sulle specificità. Sono molto d'accordo, come lei sa, io sono persona che da sempre difende l'identità, no. E credo che questa sia l'ossatura dell'Italia, i suoi mille campanili, le sue mille peculiarità, le tante specificità che ha. Sono la nostra forza in un mondo nel quale si tende, no, verso diciamo così l'unificazione, l'omologazione e non è il mondo verso il quale io voglio andare, credo che invece noi dobbiamo proprio in questo tempo rafforzare la nostra identità. E allora dicevo, ci troviamo qui in questo che è...